La decisione sul fatto che nel 2013 la prima e la seconda rata del LIMU non verranno pagate dalle famiglie italiane è una decisione già assunta, punto e sulla quale non si torna. Vorrebbe mettere la parola fine alle infinite polemiche sul LIMU Enrico Letta, al tire molla politico che più di una volta ha messo a rischio la sua maggioranza. Per questo assicura la seconda rata non si pagherà ma non nasconde le difficoltà perché i soldi scarseggiano. Il ministro Saccomanni ha detto quello che anch'io dico e che tutti noi diciamo e cioè che la copertura di questo tema per quanto riguarda la seconda rata è una copertura non semplice sulla quale stiamo arrivando a conclusione ma il tema per quanto riguarda le decisioni politiche sta nei termini in cui l'ho detto. Per abolire la seconda rata sulle prime case il governo ha bisogno di una bella somma, 2 miliardi e 400 milioni di euro, forse qualcosina in meno e deve trovarli in fretta entro il prossimo 16 dicembre, giorno della scadenza della rata IMU, quindi a 38 giorni di tempo a disposizione. Una corsa ad ostacoli per il ministro dell'economia Saccomanni che deve raschiare il fondo del barile e farlo nel modo più indolore possibile. Diverse le ipotesi su cui i tecnici del ministero stanno ragionando in queste ore. Una potrebbe essere quella di aumentare gli acconti IRS e IRAP per le imprese alla prima scadenza utile il prossimo 2 dicembre. Questa sarebbe però l'estrema razio un intervento pesante per la liquidità delle aziende già colpite dalla crisi. Seconda ipotesi limitarsi alle banche. Solo per queste l'incremento degli acconti darebbe infatti un gettito di un miliardo e mezzo di euro. Comunque non abbastanza il problema delle coperture poi trattandosi di acconti da restituire sarebbe soltanto rinviato. Per questo è probabile che subentrino altre voci come l'aumento dal 20 al 22 per cento dell'aliquota sulle rendite finanziarie. Ma niente, per ora è certo. Dopo il consiglio dei ministri di questa mattina intanto Letta è tornato anche sulla vicenda irlandese, sulle balls of steel, le palle d'acciaio che riportava l'intervista di un giornale di Dublino, secondo il premier le cancellerie europee gli riconoscono. Ho letto stamani profluvi di frasi, articoli, trasmissioni televisive su che cosa avrei voluto dire con una frase che non ho mai detto come è noto perché trattasi di un cortocircuito legato a una traduzione in inglese di una frase idiomatica. Insomma, le note vicende dell'acciaio, così le definisce il premier, sarebbero un blef. Nessun cambio di linguaggio, nessun cambio di passo, assicura Letta.